Per un collettivo che sta ragionando su questa cosa dal 2020, il momento in cui si è costituito Saccage inizialmente come una larghissima coalizione di realtà e movimenti diversi per agire nella necessità, nell'urgenza. I giochi olimpici si strutturano su un periodo complesso e lungo, non si tratta di un momento, di una data, del luglio, dell'anno prossimo, ma è un processo che va avanti ormai dal 2017 e nella prima fase chiaramente il problema che si era posto era quello da un lato degli sgomberi, dall'altro dell'artificializzazione dei suoli, delle infrastrutture che si erano create e abbiamo dovuto agire quindi nell'urgenza. Da un lato appunto stando di fianco alle popolazioni toccate, penso anche all'ultimo sgombero di Unibeton, questo enorme squat nella Saint-Saint-Denis di 400 Saint-Papier che da un giorno all'altro praticamente si sono trovati fuori dalla loro abitazione e penso anche però a tutte le vittorie che abbiamo ottenuto lavorando anche in quest'urgenza, per esempio quella dei giardini di Obervilliers a cui abbiamo partecipato attivamente, questi 10.000 metri quadrati di giardini che dovevano completamente essere cementificati per la costruzione di un solarium che vi dirò non sarà e non verrà mai costruito sui giardini di Obervilliers. Quindi abbiamo già ottenuto delle vittorie e ci proiettiamo in questo 2024 chiaramente con molti dubbi rispetto alla possibilità di costruire questa convergenza, sicuramente il 2023 di lotta che abbiamo vissuto e che abbiamo attraversato ci fa sentire appunto la questione di una mobilitazione sociale e di un'unione con i lavoratori e le lavoratrici, con i sindacati come una delle carte appunto su cui chiaramente bisogna puntare e lavorare in un momento appunto che abbiamo avuto insieme circa qualche settimana fa in cui ci siamo trovati tra circa 25 organizzazioni diverse per riflettere del futuro di questo 2024 tra cui c'erano sindacalisti, c'erano i soulevements de la terre, c'erano associazioni legate al diritto all'abitare eccetera. È chiaramente emersa la questione di una mobilitazione sociale, per questo lavoreremo per tutto il 2024 cercando di tirare su i soldi per la caisse des greves, quindi questa cassa solidare in caso in cui alcuni lavoratori e lavoratrici volessero appunto unirsi a degli scioperi, quindi nell'idea di veramente dare fastidio, di costruire la resistenza dal basso contro questi giochi olimpici che prima di tutto sono un racconto di come vogliamo la società, cioè i giochi olimpici per come sono totalizzanti, si tratta di pensare il nostro rapporto al territorio e alle persone che lo abitano e questo vale per la Francia come vale per Milano-Cortina e per questo, proprio perché noi non ci poniamo solamente nell'urgenza e nella difesa ma anche nella volontà di costruire qualcosa che pensiamo appunto ai delle controolimpiadi, a come potremmo riorganizzare e ripensare anche appunto lo sport e tutto quello che ci sta intorno svuotato di questa macchina capitalista e per farlo dobbiamo per forza pensare a una dimensione internazionale perché i giochi sono nati con questa funzione, c'è sempre stato questo racconto attorno ai giochi fondati appunto da questo Cobertin che è sempre stato pensato come un paladino dell'umanesimo e della pace dei popoli quando in realtà purtroppo era un grande fascista e questo spesso lo dimentichiamo e la nostra volontà quindi di costruire un rapporto alternativo ai territori, un rapporto alternativo al lavoro attraverso anche una mobilitazione congiunta vuole appunto avere un'incisione, un livello appunto di potenza che sia anche in termini internazionali proprio per iscriversi in quello stesso discorso ma presentare qualcosa di altro. Ci sarà sicuramente un momento nel 2024 in cui cercheremo la convergenza anche con le lotte italiane dall'altra parte delle Alpi, anche nella volontà di pensare queste Alpi non più come una frontiera ma come uno spazio politico comune. L'abbiamo cercato di fare anche con i sullevements de la terre, con quell'ultima manifestazione nella Vallée de la Morienne, con tutto il movimento Notave, i movimenti CIA e tutti i nostri compagni che purtroppo non hanno potuto attraversare la frontiera, circa cinque pullman bloccati sul lato italiano, è perché fa paura questa idea di una convergenza tra i movimenti francesi e i movimenti italiani ed è proprio quindi in questa direzione che cercheremo di andare. Grazie. Credo che questi appuntamenti estivi appunto ci devono servire per ragionare e per cercare poi tutti insieme di definire anche quale saranno le direzioni su cui sviluppare i movimenti e le battaglie questo autunno. Mi sembra che questa sera di spunti ne siano venuti molti e credo che appunto che un po' la base di partenza è proprio anche quella di metterci tutti sul piano di riconoscere appunto la necessità di questa convergenza, perché poi si usa tanto queste parole, l'intersezionalità, la convergenza eccetera, ma la verità è che un casino di volte, come scrive Mark Fisher, quando si parla di intersezionalità partono delle discussioni incredibili e nessuno è d'accordo su niente e ogni gruppo ha il suo meccanismo identitario e allora questo sì e quello no eccetera eccetera. Io credo che quello che ho capito anche da oggi con lo sede in Francia è che intanto riconoscere la subalternità rispetto al capitale e il modo con cui il capitale estrae il profitto dalla nostra vita, dal nostro tempo, dall'ambiente, dalla razzializzazione, la questione di genere, già questo dovrebbe essere una base comune che chiaramente lo ridico ma non come parola retorica, ma comunque è una questione di classe, intendendo per classe non il monolite ma un meccanismo moltitudinario, però che comunque c'è una linea di sfruttamento rispetto a tutte le questioni che ci accomuna e che appunto l'estrazione di valore. Poi come abbiamo detto noi cerchiamo sempre di comunque non essere le vittime ma essere i ribelli e quindi di trovare le forme per farlo, per praticarlo. Io credo che sicuramente almeno noi come Adelecoba stiamo cercando di inventarci dei percorsi, questa questione io credo del salario minimo è una questione io credo fondamentale perché poi parla di tutti e tutte noi, ok? Perché qua ricchi di famiglia credo che ce ne siano pochi e sicuramente questa questione del carovita stiamo ragionando insieme anche ad altre organizzazioni sindacali di base, in particolare nella logistica ma non solo, di inventarci dei momenti di mobilitazione forti appunto nell'autunno perché questa questione salariale del reddito è una questione cruciale che batte molto forte e per dire che poi alla fine magari lotta di più una componente emigrante abbiamo iniziato da poco un percorso con i lavoratori e le lavoratrici del settore della cultura, alla Biennale, a Venezia, ai musei e questo e quell'altro, le fondazioni tutti i giovani acculturati, laureati eccetera eccetera che poi prendono 5 euro all'ora nella libreria, nel bookshop Mondadori all'interno della Biennale, per cui teoricamente persone che hanno anche dovrebbero avere gli strumenti ma per un qualche motivo non si riesce o è difficile organizzarsi per cui bisogna andare a aggredire tutti quanti i settori come dicevo prima probabilmente anche inventandosi delle altre forme. Io credo che sicuramente la questione climatica, anche questa questione diceva delle Olimpiadi, è una questione centrale ed è un meccanismo di campagna che anche lì non parla ovviamente di questo evento ma come anche il simbolo in questo caso per quanto riguarda qua la montagna, la provincia di Belluno, territori che si spopolano, depredati dei servizi, della sanità, di tutto quanto dove però diventa il parco giochi come Venezia, l'evento da far mostrare, da far vedere in questa rappresentazione e tra l'altro mettendo anche in discussione perché questa è una cosa pazzesca, quest'idea della scarsità, per cui ti dicono sempre per questo, per quell'altro, per le pensioni, per le cose non ci sono soldi, poi in realtà sperperano cento e passa milioni per fare la pista di Bob che non si sa neanche chi la userà, quindi credo di carne al fuoco ce ne sarà tanta, sicuramente il Climate Camp ci saremo e quindi insomma rimbocchiamoci le mani, grazie.